Si è conclusa con un grande successo di partecipazione di pubblico, di certo al di sopra di ogni più rose aspettativa, la seconda edizione degli incontri letterari La Bella Estate, svoltasi a Castelnuovo Garfagnana ai piedi della Rocca Estense. Manifestazione fortemente voluta dall'amministrazione Tagliasacchi e curata da Alba Donati. Dal 6 luglio al 24 agosto la rassegna ha visto la presenza di ospiti davvero illustri. Il primo è stato Ermanno Cavazzoni, poi il 7 luglio è stata la volta di Dori Ghezzi, la settimana successiva ad Acia Maraini con la sua tre donne, una storia d'amore e disamore. Il 20 luglio Marco da Milano ci ha riportato indietro nel tempo fino al rapimento di Aldo Moro. La settimana successiva è stata la volta del bravo e simpatico napoletano doc Maurizio De Giovanni, il 3 agosto protagonista invece il cardiologo lucchese di adozione Francesco Maria Bovenzi. Il 10 agosto c'è stata la serata dedicata alla poesia con Alba Donati e altri ospiti. Il 17 l'attrice Laura Morante con i suoi brividi immorali a chiudere la rassegna Paolo Crepet nella serata del 24 agosto. Una scommessa vinta, non era scontato, devo dire che la gente ha voglia di partecipare, ha voglia anche di intervenire a stimoli culturali importanti. L'immagine di Castelnuovo mi sembra ne esce rafforzata da questo punto di vista, non solo come punto di riferimento di aggregazione associativa importantissima, di attività ricreative, ma appunto anche con questo progetto culturale che noi leghiamo ad eventi non fini a se stessi, ma legati appunto alla ristrutturazione della rocca e a una idea di Castelnuovo legata anche alla sua storia, alla sua identità che mi sembra significativa. Gli incontri ripresi dalle telecamere di Noi TV sono stati trasmessi dalla nostra emittente tutti i giovedì alle ore 23.15. L'ultimo, quello con Paolo Crepetta, andrà in onda venerdì 31 agosto, in prima serata, esattamente alle 21, al termine dell'edizione del TG Noi delle 20 e 30.